Consigli utili per botti sicuri alla mezzanotte del 31 al di là dei controlli capillari delle forze dell'ordine su tutto il territorio contro il fenomeno dei fuochi pirici degali è sempre importante adottare comportamenti irresponsabili per evitare spiacevoli inconvenienti in un mercato abbastanza variegato dove le 700 aziende registrate rappresentano solo il 50 per cento di un fatturato effettivo che supera i 100 milioni di euro secondo un dossier di fare ambiente ed il restante 50 per cento illegale è sempre più necessario evitare i rischi attraverso acquisti consapevoli su questo vigilano con estrema attenzione le forze dell'ordine con controlli costanti e capillari ma seminare consigli utili non fa mai male abbiamo per questo ascoltato il comandante del primo gruppo nucleo operativo della guardia di finanza di pescara valerio andrea guarnera sicuramente prudenza a fin dall'acquisto evitare di acquistare quindi prodotti da parti di sconosciuti e diffidate dalle cosiddette bancarelle improvvisate dove spesso si vendono prodotti non conformi e vietati infatti tutti quanti i fuochi d'artificio devono essere venduti con particolari licenze da e in questa licenza deve essere riportato il nome e il cognome del titolare in particolare nel momento in cui vediate queste etichette non con istruzioni non chiare non leggibili non comprate il non comprate il prodotto è chiamate immediatamente il 113 in particolare occhio all'etichetta in quanto proprio in quest'ultima sono riportate le istruzioni d'uso per un uso sicuro del prodotto in particolare in particolare in questa e in questa etichetta deve essere riportato anche l'appartenenza della categoria del fuoco in quanto quelli più pericolosi sono quelle di quarta e quinta categoria in particolare questi ultimi possono essere venduti solamente da avendo una particolare licenza e quindi autorizzazione da parte di della polizia e da maggiorenni che hanno anch'essi un'autorizzazione da parte della polizia una volta avute tutte le rassicurazioni nell'acquisto è consigliabile la massima prudenza anche nell'uso dei prodotti nel 2023 in italia si sono registrati 180 feriti di cui 11 ricoverati in gravi condizioni fortunatamente nessuna vittima ma la cautela non è mai eccessiva sicuramente bisogna bisogna stare attenti ai fuochi di cosiddetta quarta e quinta categoria quindi quelli cosiddetta effetto esplodente quindi quelli più pericolosi sicuramente è possibile acquistare questi prodotti da maggiori di 14 anni però è necessario ed è consigliabile sempre la supervisione di un adulto è necessario soprattutto allontanarsi da tutti quanti quei liquidi gas o contenitori infiammabili compresi comprese le sigarette accese guardia di finanza in particolare il primo nucleo relativo del gruppo di pescara quindi il comando l'unice di pescara si occupa proprio giornalmente di evitare a ridosso di quest'ultima festività le problematiche inerenti proprio all'utilizzo di questi strumenti questi prodotti non conformi